Siamo con Runti Allora pronti? Tutti con le mani su, si Fate così sempre Dio cane E' molto cane questo Dio E E E E E E' bugia Anche se in realtà adesso che Stavanti l'avrò bevuto un sacco di pipì Ma che vi devo dire? Vabbè ragazzi Il tema è Come essere bucciati Poi tanto che controllo qua Sta andando Quindi l'obiettivo è la Ok? E Essere bucciati Quindi evitare di essere promossi Non è una cosa semplicissima Bisogna avere una strategia E questa strategia deve essere Vincente E deve essere applicata in maniera Certosina Anis Ora detto questo Voi come sapete Durante il video del Verdi Ormai è Prrrr Ma prima si andava A Prima si facevano lezioni Cioè si spende I genitori spendevano tanti soldi Magari lo fanno anche ora Scrivetelo nei commenti Che rapporto avete con la Fica A proposito Di Cane No Di Fantastico Meraviglioso Fuochi d'artificio Regola numero uno Agisci Asap Ora vediamo che cos'è Asap Se voi conoscete l'inglese Lo saprete già Sederino Ma Am 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 Am